Ecco, stiamo lasciando sedilo, la parrocchiale di San Giovanni Battista inizia il cammino fino a Santa Greca di Aido Maggiore. La parrocchiale di San Giovanni Battista inizia la parrocchiale di San Giovanni Battista inizia la parrocchiale di San Giovanni Battista. La parrocchiale di San Giovanni Battista inizia la parrocchiale di San Giovanni Battista. La parrocchiale di San Giovanni Battista inizia la parrocchiale di San Giovanni Battista inizia la parrocchiale di San Giovanni Battista. La parrocchiale di San Giovanni Battista inizia 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 la parrocchiale di San Giovanni Battista iniz Siamo accanto. Questa è una periferia, qui c'è anche un panificio che vi consigliamo fortemente, il pane e carassà, ma sono due panifici qua a sedilo ottimi, veramente, come... Grazie a tutti.